Ciao, sono Steffi, lavoro al Diving Center Scuba World. Ci occupiamo delle vostre escursioni di mare, delle vostre immersioni, tutto quello che volete fare con noi, snorkeling, diving. Vi aspettiamo al nostro dive center. Ogni giorno andiamo alla Dolphin House, dove potrete fare lo snorkeling con i delfini, Charmelluli, la meravigliosa spiaggia bianca corallina, e le isole di Amata, dove ci sono dei viatole meravigliosi all'interno del mare. Diving, diving, diving tutti i giorni. Vi aspettiamo a Scuba World. Ciao!